Ecco tutto CIO che serve sapere su agevolazioni e vantaggi d'assunzione per gli over 50, sia donna che uomo. Quali sono, a chi spettano, e le norme dell'INPS. Coloro che assumono i cinquantenni potranno avere il beneficio corrispondente a sgravi contributivi del 50% in base alla legge Fornero. Si tratta di valide incentivazioni, utili per favorire l'occupazione. Ad esse si aggrega in più un bonus, cioè uno sgravio contributivo del 100%, dedicato soltanto a chi assume donne over 50. Quali sono i sostegni per chi assume gli over 50? Attualmente ci sono due tipologie di agevolazioni per le assunzioni di over 50. Gli incentivi ancora validi e collegati alla legge numero 92 barra 12, ossia la legge Fornero. In questo caso sono previste delle agevolazioni contributive del 50% per chi decide di assumere donne e uomini over 50, che risultano essere disoccupati da almeno un anno. Poi, c'è la novità riguardante la legge bilancio del 2021, che si aggiunge a CIO che è stato deciso in precedenza. La legge 30 dicembre 2020 numero 178 va a rafforzare gli sgravi sulle assunzioni agevolate di donne over 50. Il datore di lavoro avrà un esonero contributivo del 100%, ma solo assumendo nel biennio 2021-2022 delle donne disoccupate da oltre un anno. L'importo massimo deve corrispondere a 6.000 euro all'anno. Questo genere di misura è inclusa nelle agevolazioni collegate all'assunzione femminile. La legge Fornero sull'assunzione degli over 50 I datori di lavoro potranno usufruire di una riduzione del 50% dell'aliquota contributiva a suo carico. Ma CIO è fattibile solo in caso di assunzioni di over 50, disoccupati da più di 12 mesi. La durata dipende dal tipo di contratto stipulato inizialmente. Le assunzioni agevolate spettano a tutti gli over 50, sia uomini che donne, ma devono essere disoccupati da più di un anno. Chi può fare richiesta dello sgravio contributivo? Tutti i datori di lavoro possono fruire di tali agevolazioni, a parte i datori di lavoro domestico e intervallato. Ora, bisogna fare una precisazione. Questi incentivi spettano unicamente se l'assunzione crea un netto aumento del quantitativo di lavoratori dipendenti. CIO ovviamente confrontandolo con la media dell'anno precedente. Inoltre, è necessario poter disporre di queste particolari caratteristiche, valide anche per quanto concerne la legge di bilancio 2021. Adempimenti contributivi regolari. Rispetto delle regole per tutelare le condizioni lavorative. Rispetto dei vari accordi stabiliti con le organizzazioni sindacali. L'assunzione non deve essere domestica, intermittente o l'attuazione di un tipo di obbligo già esistente. L'assunzione non deve contravvenire il diritto di precedenza riguardante la riassunzione di un altro lavoratore. Il datore di lavoro non deve avere delle sospensioni lavorative, per via di crisi o riorganizzazione aziendale. Le assunzioni incentivabili. Quali sono i rapporti di lavoro che rientrano in questa tipologia di agevolazioni? I contratti di lavoro a tempo determinato, le assunzioni a tempo indeterminato e i contratti di lavoro a tempo determinato. Questi ultimi, quando sono tramutati in contratti a tempo indeterminato. Il bonus per le assunzioni over 50 riducono del 50% i contributi a carico dei datori di lavoro. Il beneficio può durare un anno col contratto a tempo determinato, 18 mesi col contratto a tempo indeterminato e 18 complessivi, col contratto a tempo determinato, cambiato in contratto a tempo indeterminato. Come si effettua la richiesta dello sgravio over 50? Il datore di lavoro deve provvedere a inoltrare comunicazione all'Inps presentata prima di inviare la denuncia contributiva. Non esistono scadenze per la richiesta di tale bonus. Legge di bilancio 2021 per le assunzioni femminili over 50 I datori di lavoro che assumeranno le donne over 50 disoccupate da più di 12 mesi potranno beneficiare dell'esonero contributivo del 100% e con un importo massimo annuale di 6.000 euro. Anche in questo caso, le assunzioni devono corrispondere a un netto aumento occupazionale. Chi può usufruire dell'esonero? Tutti i datori di lavoro privati, pure se non sono degli imprenditori, e inclusi quelli del settore agricolo. Le assunzioni incentivabili. Queste agevolazioni sono valide sulle assunzioni a tempo determinato e indeterminato, nonché sulle mutazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto lavorativo agevolato. Inoltre, si può applicare pure per il part-time e per il lavoro subordinato e in somministrazione. Importo e durata del beneficio. I datori di lavoro che assumono le over 50 possono avere una decontribuzione totale fino al limite massimo di 6.000 euro annuali. Il bonus dura un anno in caso di tempo determinato. 18 mesi per il tempo indeterminato. E 18 mesi complessivi quando si trasforma in indeterminato un tempo agevolato e non agevolato. Per avere informazioni precise su come richiedere l'esonero donne over 50, è necessario attendere le decisioni della Commissione europea, in merito all'argomento in questione. Cosa ne pensate di questi benefici? A voi i commenti! Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Grazie! Grazie! Grazie a tutti